Grande festa domenica 6 maggio a Valgoglio. Durante le celebrazioni delle prime comunioni si sono aperti i festeggiamenti programmati per il mese di maggio per ricordare i cento anni della riconsacrazione della chiesa parrocchiale. La chiesa di Santa Maria Assunta venne consacrata una prima volta circa 500 anni fa, poi nel secolo scorso, in seguito agli ampliamenti di fine ottocento, il vescovo di Bergamo, Monsignor Giacomo Maria Radini Tedeschi, assistito dall'allora suo segretario particolare Don Angelo Giuseppe Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII, l'11 maggio del 1912 riconsacrò la chiesa insieme all'altare della Madonna Adolorata. Ad aprire le celebrazioni è giunto a Valgoglio l'arcivescovo metropolita di Porto Viejo in Ecuador, Monsignor Lorenzo Voltolini, con uno dei suoi tre vescovi ausiliari, Monsignor Edoardo Giuseppe Castillo Pino. La parrocchia di Valgoglio, infatti, da qualche anno è gemellata con la diocesi del vescovo Voltolini, prelato di origine bresciana. I due vescovi sono saliti a Valgoglio per incontrare e ringraziare il parroco Don Primo Moioli e i membri del gruppo missionario Porto Viejo, che hanno voluto e rafforzato nel tempo questo gemellaggio attraverso la preghiera e l'aiuto concreto nella carità. Al termine della celebrazione, l'arcivescovo ha voluto riconoscere Don Primo non solo per lo zelo profuso per la parrocchia di Valgoglio Novazza, ma anche e soprattutto per l'aiuto spirituale e materiale che ha favorito con entusiasmo verso la chiesa missionaria di Porto Viejo. Per questo motivo, con il parere favorevole dell'ordinario di Bergamo, l'arcivescovo ha conferito al parroco, come segno di perpetua gratitudine, il titolo e la dignità di canonico onorario del capitolo metropolitano della cattedrale di Porto Viejo. Il parroco, di fatto neo-monsegnore, visibilmente commosso ed emozionato per la sorpresa, ha ringraziato i due vescovi per il grande onore, rinnovando il suo impegno di continuare a lavorare per la promozione e la conoscenza di quella grandissima arci diocese equadoregna, una delle più antiche dell'America Latina.